Buonasera a tutti. Allora, sì, noi siamo stati dirottati su Uselus, Villa Marv e Mogorella, perché anche lì c'è stata la situazione di 2.000 rettari. Per loro è tutta roba sconosciuta, eh, chiaramente. 2.000 rettari di post-conforzati. Niente, vorrei personalmente, qua è stato un anno, per dire solo che questa paratura è incominciata nel 2009, con l'Abruzzo. Abbiamo portato le pecole della Sardegna in Abruzzo. Volevo solo testimoniare quello. Benissimo. Perché comunque l'abbiamo fatta in prima persona e ce l'avamo. Grazie.